Quindi, gli stava dicendo, cose che hanno segnato la sua giovinezza? La mia giovinezza, mi ha detto, stavo a lavorare, lavoravamo da ragazzo. Un elemento particolare, che ne so, una fidanzata oppure... Una fidanzata, se eravamo fino a 15-20 anni, non si cose, perché sulle campagne eravamo portati per uno, stavamo distante dall'altro, una cosa all'altro, si pensava solo a lavorare e basta. Senza stare... Perché non è oggi, apre un rubinetto e prende l'acqua. A quei tempi, per prendere un corso di acqua, dovevamo camminare mezz'ora. Mezz'ora andava, mezz'ora avvenì. Per piar corso. Per prendere una conghetta d'acqua, per dire, o un secce che lo portava 5-10 litri. Era tutta così, da parte all'altra. Io quando stavo in campagna ammazzavo le 4 da mattina, alle 10 da la sera, dalle volte non rientravo. Non andavo a letto, perché le bestie da mangiare, acqua da andare, le vantellate, era sempre un... Un'anita faticosa qua. Quasi così. È abbastanza, scusate. Troppo. Troppo.